Amici di Video Sesto, per il nostro speciale per le elezioni comunali del 25 maggio a Sesto Calende intervisteremo per la lista civica Insieme per Sesto il candidato sindaco Ugo Mazzucato, Leonardo Balzarini e Emanuela Zambenedetti. Quali sono i punti del programma di Insieme per Sesto? I punti del programma di Insieme per Sesto sono il punto principale del lavoro, fare in modo che ci sia lavoro per tutti e che ci sia economia. Non è soltanto una questione di busta paga, ma il lavoro vuol dire casa, il lavoro vuol dire scuola, vuol dire comunità. Perché in questo periodo di crisi noi crediamo che un'amministrazione comunale debba collegare l'offerto alla domanda, questo può e lo deve fare. Allo stesso livello di importanza ci sta l'istruzione. Vogliamo valorizzare quello che può essere l'apporto di queste nuove generazioni. Chiaramente è necessario che ci siano strutture adatte, innanzitutto sicure che offrano degli strumenti per anche essere al passo con i tempi, cioè non solo libri ma anche materiale multimediale e tante altre cose. Degli edifici che sono a volte veramente fatiscenti e addirittura fuori norma e noi vogliamo innanzitutto occuparci di questo settore. Oggi come potete vedere c'era la giornata dello sport, allora noi siamo qui a proporre che lo sport diventi un punto importante all'interno di Insieme per Sesto. Il territorio è l'altro punto fondamentale, il territorio si intende proprio l'urbanistica, i lavori pubblici, l'acqua, ma soprattutto significa le radici della comunità che noi rappresentiamo. Poi il futuro è il turismo anche. Perché una città come Sesto Calende che ha molti spazi verdi e si trova sul fiume non può sottovalutare la risorsa che in questo periodo costituisce il turismo ambientale. E poi che tiene insieme tutte queste cose qua il collante, la socialità, quindi un servizio sociale che non sia assistenziale ma che proprio si occupi di fare da collante tra tutte le varie categorie, etnie e rappresentanti del nostro paese. Una battuta finale per gli elettori sestesi? Chiedo agli elettori sestesi, indipendentemente da chi vince, comunque di farsi sestesi a 360 gradi. Bisogna credere in Ugo, perché Ugo Mazzocato è una persona con tante idee, con tanta buona volontà e con voglia vera e sincera e onesta di cambiare le cose. E quindi dobbiamo stare tutti insieme per Ugo. Votate noi perché noi abbiamo Ugo e noi abbiamo il programma. Forza Ugo!